Scusate, devo risolvermi un dubbio, siccome non sono molto bravo a capire i contesti. È una mia impressione o noi tre vogliamo fare tutti e tre sesso insieme? No, cioè mi sto sbagliando. Non lo so Boston, vuoi partecipare anche te? Ok. Non so, vuoi ripare questa domanda? Ciao Dredd, come stai? Ho chiesto come stavi, se andava tutto bene in YouTube. Ma tutto benissimo, grazie. Però c'è la domanda questa. Non so, ripropi una domanda, nanni. Capiamo, capiamo un po', magari anche Matteo, vai siamo in quattro. La domanda è, vorresti fare sesso con me e Sofia e Michelle, tutti e quattro insieme? O al massimo lo fate voi e io guardo, non è un problema. Oh sì, oh sì. Ok, ci sta. Ma posso scegliere con chi fa sesso o è tutti che fanno sesso con tutti? Come vuoi, guarda, sei te il... ti do la situazione in mano. Va bene, va bene. Ah, posso anche dire una cosa? Matteo era l'unico che dell'esperimento della misoginia credeva che tu non avresti mai detto niente. Quanto ha durato secondo te? E poi ti faccio vedere la clip. Ho durato 26 secondi. Bravo, tipo 7. Cos'è l'esperimento? Ah, oh, non ti ho dato quel contesto, forse. Non ho dato il contesto, quindi non sta a capire niente. No, 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 no.